Signore e signori, buongiorno, sono Luca Trucco e anche quest'anno conduco il corso intitolato Le abilità manageriali trasversali per migliorare la relazione interpersonale. Da più di 20 anni mi occupo di formazione cognitivo-comportamentale per manager di varie aziende e l'obiettivo di questo percorso è quello di canare nella realtà quotidiana tutte quelle che sono le tecniche legate a un miglioramento delle performance relative all'efficacia della comunicazione tra le persone. Quali strumenti che adotteremo, strumenti pratici che adotteremo nel corso di questo sentiero vi sono appunto elementi derivanti dalle teorie della comunicazione classica, della psicologia cognitiva, della programmazione neurolinguistica e anche delle neuroscienze. Tutto questo per cercare di raggiungere un obiettivo basilare, ovvero evitare dissidi, negoziare accordi, motivarsi e automotivarsi in modo tale che si sappia in qualsiasi circostanza cosa dire, come dirlo e quando dirlo. Bene, se tutto questo vi interessa vi aspettiamo qui in Unipop. Un cordiale saluto. Grazie a tutti.